Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti Adesso è certo, in questa campagna elettorale, forse per la prima volta, Ciriaco De Mita non ha argomenti. Forse perché, grazie all'intelligenza soprannaturale che vante di avere, ha capito perfino prima dei sondaggi che il nipotino è fregato. L'altra sera Dariano, ad esempio, ha ripetuto stucchevolmente che tutti parlano a bambera e nessuno dà indicazioni su come risolvere i problemi. Dovrebbe cambiare spartito. Per dire, Ciriaco potrebbe indicare una soluzione al problema scandaloso dell'Aias, che ha visto protagonista il suo fedelissimo Gerardo Bilotta, oppure, che so, spiegare come si può risolvere il problema di un altro suo fedelissimo, quel biaggio iacolare del patto di Marano finito in un imbarazzantissimo video fanpage.